Si è concluso il primo dei cinque concorsi di progettazione per la realizzazione di residenze per studenti nelle città universitarie pugliesi, nell'ambito del progetto Puglia-Regione Universitaria, ad aggiudicarsi la vittoria con la migliore proposta progettuale per il recupero dell'ex caserma Cimarussi a Lecce e stato il raggruppamento Ipo Studio di Firenze con Studio Netti Architetti di Bari e Architetto Elita Don Ghianoci. Tutte le 45 candidature sono state di altissimo profilo con architetti, ingegneri, professionisti provenienti da tutta Italia, straordinarie intelligenze e competenze per trasformare un edificio storico nel centro storico di Lecce in una residenza a disposizione della comunità studentese. E' con queste parole che l'assessore regionale Sebastiano Leo ha colto la notizia della chiusura del primo concorso di progettazione sulle nuove residenze universitarie della Puglia, promosso dall'assessorato all'istruzione della Regione Puglia, in collaborazione con le agenzie regionali per il diritto allo studio ad ISU e per la progettazione ASSET. Per il recupero dell'ex caserma Cimarussi di Lecce sono giunte 45 candidature, di queste solo 5 sono passate alla seconda fase prevista dal concorso, che prevedeva di sviluppare l'idea progettuale nel rispetto degli standard dimensionali e qualitativi e completi tutti i servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alle attività culturali e ricreative.